Recuperare la cattedrale significa crescere come chiesa, così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, si è rivolto al vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello, nel giorno della riapertura della cattedrale di Oria, dopo i lavori di ristrutturazione. Ascoltiamo entrambi. Io sono molto lieto di essere qui a Oria in questa domenica particolare, in cui tradizionalmente si celebra la festa del patrocinio di San Barsanofio, ma che oggi è impreziosita da questa circostanza, cioè dalla riapertura della cattedrale dopo tre anni di lavoro. Quindi per me è una grande gioia condividere la gioia di tutta la comunità cristiana di Oria, a cominciare dal vescovo, Monsignor Vincenzo Pisanello, che ha dedicato tempo, forze, energie proprio a questo scopo, a rimettere in piena funzione la vostra bella cattedrale. E penso che questa circostanza, ecco, la riapertura della cattedrale, ha un significato profondamente ecclesiale. Noi sappiamo che la cattedrale è un po' il centro della vita della diocesi, perché in essa c'è la cattedra del vescovo, dove il vescovo esercita la sua funzione di unità e di guida della comunità diocesana, di evangelizzazione e di animazione cristiana. Ed allora ristrutturare una cattedrale in senso simbolico, ecco, significa, come dire, ritrovare stimoli per crescere come comunità cristiana, per crescere come Chiesa. La presenza di Sua Eminenza, Cardinal Parolin, è certamente un segno non solo di preziosità, ma anche di rinnovata comunione con il Santo Padre, proprio perché egli è il primo collaboratore del Papa. È qui come se avessimo la sua presenza. E questo è importante perché una Chiesa che non viva di comunione, non vive. E allora rinnovare questa comunione con il Santo Padre e rinnovarla in occasione della riapertura della chiesa cattedrale è essenziale e fondamentale. La chiesa cattedrale, come più volte abbiamo detto in questi giorni, è il luogo dove la comunità diocesana viene per crescere, per ricevere, per crescere nella comunione.